L'opera fondata 800 anni fa da San Domenico ha aiutato tanti uomini e donne a non disperdersi nel carnevale della curiosità mondana, ma a sentire il gusto del Vangelo e a diventare a loro volta artigiani di opere buone. Con queste parole Papa Francesco ha reso grazie a Dio per l'ordine dei predicatori fondato dallo spagnolo Domenico di Guzman nella celebrazione presieduta sabato pomeriggio nella Basilica di San Giovanni in Laterano, dove il 21 gennaio 1217 Onorio III autorizzò all'interno della Chiesa l'opera dei frati domenicani. Nell'Omelia della Messa, che ha concluso il Giubileo dell'Ordine, il Papa ha preso spunto dalle parole di San Paolo al discepolo Timoteo sulle difficoltà di annunciare il Vangelo in un contesto nel quale la gente cerca sempre nuovi maestri, ed ha sottolineato che questo scenario oggi si è globalizzato a causa della seduzione del relativismo soggettivista. Nella società dell'apparire anche la verità è truccata, detto Francesco, e ci muoviamo nella cosiddetta società liquida, priva di riferimenti stabili, nella cultura dell'usa e getta. Di fronte a questa superficialità pseudofestosa, a questo carnevale, la risporza di Gesù e della Chiesa, l'appoggio solido in mezzo all'ambiente liquido, sono le opere buone che possiamo compiere grazie a Cristo e al suo Santo Spirito, che negli altri possono far nascere la domanda perché questa persona si comporta così, sempre se il sale non perde sapore, se la Chiesa, se un consacrato, non perdono sapore. Oggi noi rendiamo gloria al Padre per l'opera che San Domenico, pieno della luce e del sale di Cristo, ha compiuto 800 anni or sono. Un'opera al servizio del Vangelo, predicato con la parola e con la vita. Un'opera che, con la grazia dello Spirito Santo, ha fatto sì che tanti uomini e donne siano stati aiutati a non disperdersi in mezzo al carnevale della curiosità mondana, ma invece abbiano sentito il gusto della sana dottrina, il gusto del Vangelo, e siano diventati a loro volta luce e sale, artigiani di opere buone e veri fratelli e sorelle che glorificano Dio e insegnano a glorificare Dio con le buone opere della vita. Grazie a tutti.